Il nome di Enzo Tortora evoca oggi due storie diversissime tra loro, quella del popolare presentatore televisivo, chi è che non ricorda per esempio Portobello, e invece la storia che è anche la storia di un clamoroso caso di mala giustizia, anzi è rimasto forse a distanza di tanto tempo anche un caso particolarmente emblematico. Enzo Tortora viene arrestato al culmine della sua popolarità con accuse infamanti, quello di essere un trafficante di droga, quello di appartenere alla camorra napoletana, ad accusarlo ci sono una serie di pentiti e di pregiudicati che si scoprirà poi in realtà avevano dichiarato il falso, anche per motivi molto diversi fra loro. Però per Tortora è l'inizio di un calvario anche mediatico, appunto dicevo una vicenda dolorosa e clamorosa, basti pensare solo al modo in cui vennero diffuse le immagini del suo arresto e alle prese di posizioni che ci furono poi immediatamente dopo la divulgazione della notizia. In realtà Tortora risulterà poi innocente, sarà assolto, tornerà in televisione, riprenderà la sua trasmissione Portobello accolto da una standing ovation. Inoltre è divenuto parlamentare diventerà anche lo strumento del referendum sulla responsabilità civile dei magistrati, eppure nessun procedimento, nessun'azione penale verrà mai avviata per il caso di mala giustizia di cui lui era stato protagonista, neanche appunto a carico dei PM che avevano condotto l'inchiesta. Tortora morirà a soli 59 anni di malattia il 18 maggio del 1988.